A partire da domenica prossima, 11 giugno, tornerà la Kermesse Mediterranea e Taranto e la Dolce Vita, giunta alla sua seconda edizione dopo la precedente desordio che vide protagonista la città vecchia con una sfilata fashion dello stilista milanese Gianluca Saito. Il programma di questa seconda edizione si svilupperà con event in location in altri quartieri della città di Taranto, sempre con lo spirito di contribuire allo sviluppo economico e sociale del capologo ionico, nel segno del paradigma, è stato detto in conferenza stampa, palazzo di città nel sonno degli specchi, della bellezza, del sogno, della passione e della qualità. Questa domenica inizieremo a far esibire 30 aziende che producono prodotti a chilometro zero. Avremo un secondo appuntamento poi dedicato al mondo della moda e quest'anno vediamo il ritorno di Gianluca Saito con la sua collezione Haute Couture, ma anche la presenza di Rosso Rame, un brand d'eccellenza del nostro territorio, e un forte brand per quanto riguarda le hairstylist Shoe Mura. Questa iniziativa porta Taranto alla promozione del territorio di Taranto, quindi parliamo di una nuova Taranto, non parliamo soltanto come in passato, quello che era l'acciaio, l'inquinamento, ma parliamo di cultura, bellezza e benessere. Vogliamo dare veramente un cambio di marcia a questa città e noi stiamo cercando, nel nostro piccolo io e Mario, di fare questo. La moda, c'è una frase importante, dice la bellezza salverà il mondo. Beh, noi cercheremo che con la bellezza di salvare Taranto e di portare Taranto sempre più alla ribalta.